Saremo molto oculati nella gestione delle poche risorse a disposizione, il Ministro Padoan mette le mani avanti sulla disponibilità finanziaria per la manovra del Governo, che ne pensa? Il Ministro Padoan ha fatto il suo tempo, avrebbe già dovuto lasciare nei primi errori che ha commesso durante le scorse leggi di bilancio, sbagliando completamente le previsioni, a questo punto diventa veramente ridicolo che continui a intervenire in questa maniera, ormai si è dimostrato per quello che è, un Governo fallimentare dal punto di vista economico, dal punto di vista occupazionale e dal punto di vista del benessere sociale, poi i numeri si giocano sempre, vengono interpretati, si fanno delle stime a rialzo, quello che conta veramente è quello che sentono le persone fuori e io lo chiederei proprio alla gente che ci ascolta da casa, cosa percepiscono, perché io girando percepisco un gran malessere economico, un gran malessere occupazionale e soprattutto sociale e su questo bisognerebbe fare veramente tanto. Però i dati a disposizione, l'Istat ma anche istituti mondiali dicono che l'Italia è in ripresa, è una ripresa che si rafforza, allora? Lei gli ha visti questi punti di crescita, lei ha notato un miglioramento dell'occupazione, io in realtà anche dal punto di vista numerico so che c'è un aumento dello 0,3% su base mensile della disoccupazione giovanile, ciò vuol dire che i nostri giovani continuano a non trovare lavoro, anzi in alcune regioni d'Italia abbiamo dei livelli di disoccupazione che raggiungono il 65-70%, regioni come la Calabria dove su 10 giovani in 7 non lavorano, non trovano un posto di lavoro. A prescindere dai numeri però poi basta girare per il nostro paese per rendersi conto che crescita non c'è, non c'è sviluppo e non c'è occupazione e per creare occupazione bisognerebbe fare una cosa che hanno fatto tanti altri paesi nel resto d'Europa, ossia fare degli investimenti strutturali su quelli che sono i settori che hanno una grande leva occupazionale, ossia quei settori dove mettendo un Euro, mettendo un miliardo si sviluppano tantissimi posti di lavoro e vanno naturalmente dai settori tecnologici a quella dell'innovazione nell'edilizia e nella riqualificazione energetica a tutto quel mondo che è il mondo 2.0 dove il nostro paese non sta investendo. La gente a casa si chiederà perché non sta investendo il nostro paese? Perché questo governo continua a mantenere delle logiche molto primitive, quelle per esempio degli incentivi fiscali. Ormai qualsiasi imprenditore, ma anche il commerciante, l'artigiano o qualsiasi partita IVA sa benissimo che gli incentivi fiscali non funzionano, hanno funzionato poco e oggi soprattutto non funzionano più perché sono preistorici. Quello che c'è da fare sono degli investimenti e andare a mettere delle risorse in questi settori che ho nominato. Io mi permetto di contraddire, se pure è solo un parte, perché tutti gli indicatori economici dicono che l'Italia è in crescita, ma è sempre sull'occupazione dello 0,2%, ma è vero e su questo ragionerei che in Europa la crescita media è dello 0,8%. Perché l'Italia arranca in questo recupero di efficienza, di occupazione, di economia? Mi permetta di dire che se io sono in una gara e siamo in due, tutte e due corriamo, ma quello vicino a me corre più veloce e vince lui. E questa vittoria purtroppo dal punto di vista della concorrenza, dal punto di vista economico vuol dire che le imprese degli altri paesi europei, quelli che crescono molto, che crescono il giusto, vuol dire che si ritrovano ad avere possibilità e opportunità sui mercati molto più importanti di quelle che non hanno le nostre imprese. Le faccio un esempio su tutte. Oggi la Germania continua ad avere un surplus commerciale del 9%, quando i vincoli europei la costringerebbero ad avere un surplus che non supera il 6%. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che queste imprese, le imprese tedesche, immettono sul mercato molti più prodotti che vanno a danneggiare naturalmente la fetta di mercato che le aziende italiane potrebbero conquistarsi con il loro di prodotti. Questo permette alla Germania di crescere molto di più rispetto a un nostro paese che in realtà è in stagnazione economica. I numeri sono quelli che a fine anno poi dimostreranno che a consultivo le previsioni che sono state fatte finora erano tutte sbagliate. È una storia che purtroppo abbiamo visto anche negli scorsi anni ed è una storia che continua a ripetersi. Il nostro paese ha bisogno di qualcosa che è ben diversa da un numerino scritto su una pagina di foglio di una legge di bilancio. Ha bisogno di questi investimenti che non vengono fatti. Intanto il confronto tra governo e sindacati sull'età pensionabile è fermo. Il governo anzi chiude la sala cinesca, ma sono 13 milioni di nonne e di nonni che hanno garantito il welfare familiare in questi anni difficili che non possono lasciare il lavoro, mentre aumenta del 44% il numero delle donne costrette a dimettersi per accudire la famiglia. Che ne sono la realtà dei fatti e purtroppo concordo con lei sul fatto che finora lo Stato sociale è stato portato avanti proprio da questi nonni. Il problema è che i soldi sono finiti, quei pochi risparmi che si erano messi da parte sono serviti a fare quello che lo Stato avrebbe dovuto fare in un momento difficile come questo, ossia garantire il benessere dei propri giovani, dei propri figli e dei propri cittadini. Cosa si potrebbe fare da questo punto di vista? Si potrebbe dare la possibilità a tutti questi giovani, nitta, che non studiano e non riescono neanche a trovare lavoro, di potersi mettere nel mercato del lavoro attraverso una formazione di professionalità che viene fatta nel resto d'Europa, proprio su tematiche importanti e innovative. Il saldo tra vecchi e nuovi occupati vede soccombere i giovani che non riescono a entrare nel mondo del lavoro, quindi la Fornero va cambiata? Assolutamente, la legge Fornero così com'è ha creato solo dei danni a livello cittadino e purtroppo ha creato delle classi sociali che conosciamo molto bene dagli esodati e non salvaguardati a tutti coloro che si sono ritrovati senza niente, ma soprattutto bisognerebbe incominciare a ragionare anche con piccole azioni che diano un po' più di flessibilità in uscita, permettendo quindi con dei piccoli premi e delle agevolazioni anche all'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Continuiamo ad avere una società che ha i cosiddetti NIT, ossia i giovani che hanno finito di studiare e non trovano lavoro, quindi non studiano più e non lavorano nemmeno e sicuramente a questi dovremmo dedicarci perché sono il futuro del nostro Paese.